Eeeh whattai a tutti ciurma e benvenuti raggiocherina in questa nuovissima serie su Oxenfree Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 25 like per questo nuovo video Io ringrazio tantissimo Marco che è stato colui che mi ha effettivamente donato questo gioco Serie che molto probabilmente appunto ragazzi sto portando perché dovrei appunto riuscire a finirla Prima appunto di staccare internet e quindi partire per l'Italia Di che cosa si tratta ragazzi generalmente nemmeno io ne so niente Soltanto che è un gioco che tratta magari di cose sovrannaturali in maniera misteriosa È un'avventura grafica in cui sarà possibile se non sbaglio anche fare delle scelte se non ricordo male Sono effettivamente molto molto curiosa per cui non perdiamo più tempo e andiamo ad iniziarlo Ah una cosa ragazzi siccome i muratori ovviamente non si devono mai risparmiare Quando giocherina registra è probabile che ogni tanto possa scapparci qualche rumore di lavori Scusate ragazzi Ma scusa aspetta Ce li avevo messi sotto i titoli alt? Ah non li ho attivati sono un genio Ok dovremmo esserci ragazzi pensavo di averli attivati ve lo giuro Ok questi dovrebbero essere i nostri personaggi Come sempre Le cose buone non durano mai Eh avevo la mente altrove scusa Ok sono le 20 Si ma scusa Ok Ecco Ok Puoi non rilistare la mia più risposta di sorgere Non rilistare la mia C'è un'avventura è qualcosa di difficile Sono stata da scuola e il tempo non funziona mai, quindi... E' quello che vuoi fare con lei? E' un secondo? Non so come funziona la matematica. E' un compagno di stanza! Non, ma non c'è un termo per questo? E' un compagno, tecnicamente. Oh, sì. Mi dimenticato se fosse anche una cosa. Beh, almeno tu sembi bello, certo? Un'amore, 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 hai un'amore, un'amore, vivendo in casa, sharing your toothbrush, wearing your clothes, eating food. No, that's the weird part. I mean, isn't it like... The concept of just getting a new sister, like a puppy, isn't it kinda awkward? Bello. No, it's been totally bizarre. But just for the record, I don't consider you a pet. Sarà meglio per te, direi. Allora, aspettate un attimo, ragazzi. Come potete vedere, vi fate già un'idea di come sarà il gioco. Sarà così. Quindi ci saranno i nostri personaggi all'interno di uno scenario. Ci sarà la possibilità, quindi, di fare scelte di dialogo. Insomma, vedremo come si svilupperà la situazione. Ah, migliori amici, ovviamente. Ok, quindi praticamente la nostra protagonista è Alex. Come fai a saperlo? Ehm, quindi... Ehm, come vuoi? È una registrazione, sempre giocano. Ah, ok. Oh, oh, dovremmo fare una piccola. Tutti noi. Ehm... Questo sarà come la scelta del precedente. Ehm... Sì, facciamoci. E' Jonas? Non è Jonas? Non è Jonas? Sì, Jonas. È Jonas Salk? È Jonas Salk? Certo? Patient Zero? È biblico, giusto? Certo? È... Biblico, giusto? Certo? O è questo il ragazzo? Credo che ogni nome è biblico, quindi... Probabilmente. Ok, facciamo la foto. Certo? Come on Alex, join the fun! Tac! Ok, quindi per interagire, lo spazio... Meno male, farei meglio, guarda. Ehi, Fox. Hai portato la radio, certo? La piccola portabile? Che radio? That little... You know... The little... It almost looks like a toy... The... Oh... Oh, you're joking. Just bring it out, will you? Ok, shift per l'inventario, suppongo. There's the little guy. Our high school has a radio station. And Carly, she's a friend of ours. She's filling in because Reggie got mono from some track runner or something. It doesn't matter. What matters is that she's gonna say something like... Basically, right now, about our thing... So, tune it to 88.3 so I can tell her we heard it. Ok, un 88.3 subito. It's a... To the left of the dial? Sì, lo sto facendo. Dammi... Dammi un attimo di te! Quasi, non ci siamo ancora. Or whatever we call it now. But anyways, I promised him that I'd play a song from his band. So, hope you're listening, Ren. Here are the red-headed bedwetters with baby carrots. We must be getting close. There's no radio reception on the island. I'm glad I got to hear it before it went totally kaput. If we can't use it, why'd you bring it? Not just for the vote. Oh, no. You'll see. I don't expect too much, but... I'm glad I got to hear it before it went totally kaput. No, it'll be fun. I won't undercook it. You'll see. Ok, se lo dici tu, quindi questo qua, ragazzi, sono riuscita finalmente a parlare. Questo Ren è il nostro migliore amico. Ed eccolo qua. E quest'altro tizio qua, Jonas, dovrebbe essere il nostro fratellastro, se ho capito bene. Mentre Alex è la nostra protagonista, la dolce ragazzina dei capelli azzurri. Smell that clean air, boys and girls. Boy and girl. This ain't city living. Yeah, anybody need a smoke? I have a full pack. Oh, oh, no thanks. I mean, I literally just said the clean air thing, so... Alex, you can bum one off me if you're empty. No, 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 grazie. Oh, no, thanks. I don't smoke. Last time I had one, it didn't go well. Yeah, no, I didn't know what coughing with your whole body meant until I saw you dry heaving. Ok, just checking. Ok. My other friends should be up and around the bed. Actually, that... I mean, I don't mean to be the guy to break us up already, but Ren, can you do me a favor? Can I buy like two real quick minutes with Alex for a second? And you can, you know, you can run up and meet your friends? Uh, really? Just Ren can't assist? Uh, what could you possibly have to say that Ren can't hear? It's not like that, it's nothing really. It's just something I want to talk to you about super fast, that's all. Alright, bud. Ok. Eh, look, I don't want to go up by myself. I mean, can we just stick together? You're gonna have all night to say, like, whatever. But since you want to meet up with your friends anyway, oh, can I help them? Oh. It's fine, Ren. Going up ahead and we'll catch up with you. Um, okay. I guess. Though this is a really strange way, eh? Nemmeno ti devi offendere così. Thanks, man. I'll just be up hill, in case... Whatever. Ren seems nice. He's funny, you know? It reminds me of a guy I know back home. Yes. Look, just... what did you want to talk to me about before I suspect something nefarious? No, it's nothing. It's not bad. Listen, I just wanted to grab you ahead of time and say you've been cool about everything. and I guess it's just for me I've never moved anywhere and like getting a new family at the same time kind of feels like I'm skipping the training wheels. Not that it's been bad or anything. You and your mom have been great. Ah, what can I do? Lemons, lemonade, however that goes. An optimist. Oh, Christ. Vabbè, che c'è di male, eh? Non sono fiera. Scusa. I'm an optimist and proud of it. Oh, and thanks for setting up the attic for me. It's cool how it's like a little bedroom. Eh, nessun problema. Allora, ragazzi, suppongo che questi cerchietti qua possano voler dire che si può interagire. Ehm... Oh, mio Dio. Ehm... I guess a brother-sister rapport takes some time. Ok, eh, ci arriveremo. Yeah, now give it a week and we'll be like Siskel and Ebert. Always fighting. Solo rispetto ai film. Yeah, but... Only over movies. Sto cercando di essere il gentile possibile. I can't catch back up with Ren now. I didn't mean to take so long. Ok, ma... Ehm... D'accordo. C'è anche, ragazzi, appunto, un tempo limite per scegliere le opzioni di dialogo. Se, ragazzi, vi steste chiedendo se posso abbassare il volume della musica, la risposta è no. Perché nelle opzioni non c'è, appunto, la possibilità di abbassare il volume della musica. Allora, ma come faccio a interagire con gli oggetti? Ok, ah, ok, ok. Perché, sì, il mondo diciamo che è bidimensionale ma fino a un certo punto. Possiamo muoverci comunque anche avanti e indietro. Ok, interagire con questo. Ah, con un spazio. Ok. Allora, vediamo un attimo di interagire con tutto l'interagibile, ragazzi. In magazzino. Che senso? Come una chisci? Che stai dicendo? Fuoristrada? Va bene. Allora, l'auto invece che cosa ha da dirci? Beh, magari di qualcuno, che ne so, che è arrivato qua in auto e poi è andato fin su a piedi. Tutto potrebbe essere, non è che ci deve essere per forza qualcosa di allucinante o di misterioso. Forse è più tardi. Forse è più tardi. Ok, allora, più di qua a destra, ragazzi, non si può andare. Si può andare soltanto a sinistra e vedere che cosa abbiamo qua. Ufficio parchi. Dovrebbe piacergli soltanto perché è alta. Cosa dici, Alex? Su via! Non ci limitiamo a queste cose così spicciole. Beh, mi pare ovvio, non è vero. Vero! Ok, andiamo, andiamo. Come hanno fatto a tirarlo? Che come? Quindi, stai, le grotte strane. Come hanno fatto la ragazza, non è veramente la sicurezza. Non è vero. Poi, la ragazza è un'esplice. È un'esplice. E' un'esplice. Ora, è un'esplice. E' un'esplice. E' un'esplice. davvero? inquietante non riesco a immaginarlo non riesco a immaginarlo non riesco a immaginarlo non riesco a immaginarlo e non riesco a immaginarlo e non riesco a immaginarlo e non riesco a immaginarlo a immaginarlo il passato finisce qui il passato è passato alla fine credo che Gerry mi ha detto che c'è una forma di andare ma nemmeno solo ma non è che... non è mai più difficile deve essere qualcosa e se lo fossi e se lo fossi? Ren non rimanere lì perchè ti interessa? vabbè siamo migliori amici però no si si anche tu mi mancheresti ma possiamo andare sugli scogli? continuiamo a perdere tempo qui via che si va ovviamente notiamo che il gioco è molto basato sui dialoghi mi stanno scemunendo a forza di parlare perlomeno sto tipo qua ragazzi mamma mia quanto parla allora sono le 9 perfetto che cosa? che cosa? che cosa? eh non non ok perché non dovrei in che senso al solito ah ah magari non voleva che lo sapessi scusa insista Jonas è solo un po' nervoso ok andiamo giù ci sono altre due ragazze qua che ci aspettano ehi ciao è un tipo tosto è un ragazzo da un ragazzo da un ragazzo quindi proviamo a mostrargli un buon tempo eh solo la piazza e qualche birra sono sufficiente per iniziare si inizia bene che si si è il mio fratellastro qual è il problema? Clarissa i nostri genitori si sono sposati deficiente in che senso che cavolo di domande fai? è è siamo noi no? oh mi ha già rotto le palle questa scusa chi ti ha invitato a te? ah ecco addirittura questa mi sa che è una tipo snob ragazzi eh questa deve essere una rompipalle ma scusa tu chi sei? beh scusa eh ero ironica ma va a cagare va minchia non mi ha dato tempo di rispondere minchia io la picchio questa è già messa antipatica andiamo alla spiaggia va cioè prende dice e continua addio fratellastro in che senso come manco fosse un alieno fratellastro un fratellastro mi ha supplicato di venire chi sei tu la regina elisabetta vabbè c'è già un falò si che ne so stare vicino al falò beviamo beviamo non ho detto briachiamoci ho detto beviamo eh eh a vecchia a vecchia ah si ah minchia giusto giusto andiamo a vedere la sua casa ah per carità la signorina non vuole strapparsi i jeans mi sa che l'unica cosa possiamo fare ok ma no 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 ma non era obbligo verità eh non è la verità o la verità questo è meglio che la verità perché nessuno finisce l'acqua di qualcuno tu puoi chiedere una domanda tu devi chiedere la verità ma se qualcuno può provare che hai liedato l'accuser ti ti aspetta eh come puoi dimostrarlo infatti eh come puoi provare che qualcuno ha liedato qui dicono rumore conjecture ok 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 quindi prima e poi e perché vabbè vabbè eh fammi una domanda invece ok chiaro cosa 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 c'è 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 un po' brusca si ok andiamo un po' brusca clarissa si ma lo faccio venire apposta perchè ok si dimmi spara eh vabbè per prima cosa sposerei nona e vabbè per prima cosa sposerei vabbè non era una fede madonna però dai no no per non dire Ren s scuosa le ciasso d'où vabbè 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 a Stai zitta tu un po' Sei mai stato in prigione? Davvero? Non è mai solo in ogni tempo Sì, scда di si stupire Vabbè non è mi delundi eh però Le mettiamo un po' il fuoco sanno qua Che c'è? Chi è l'ultima persona che hai disegnato e hai disegnato? Che è l'ultima cosa? È una domanda onestà Sì, soprattutto si rischi Ho disegnato con persone since God Per ogni tanto Ma se io intanto salissi queste scale Che cosa potrebbe mai succedere? Dove vuoi arrivare? Ma Arriva al succo, zia E cosa diavolo te ne dovrebbe fregare? Scusa? Cosa te ne dovrebbe importare? Avevano dei problemi, punto Comunque diceva Mio fratello è morto, ragazzi Oddio Mio fratello è morto, ok? Meglio questa, ma Io me ne vado Andate al diavolo tutti Stai zitta, va 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 Ma magari, fai un pisodino in mezzo all'acqua Sei così irritante Ah, poverina, poverina Lei è stanca Vabbè, io me ne vado Che questo ha già mi irritato abbastanza, ragazzi Insopportabile, ve lo giuro Come ti pare Vabbè, ciao Io vado a vedere cosa c'è qua sopra Va bene? Ma non posso andare più su? Non posso andare più su, ragazzi Io voglio andare alle caverne Io, io, io Aspettatemi, ragazzi Ragazzi Aspettatemi Raga Oh Non avrete intenzione di lasciarmi qui? Aspetta, aspetta, aspetta Voglio venire anch'io Certo, certo Ovvio, andiamo Oh Grazie fratellastro Non lo so Sarà inquietante Cinque Abbastanza paurosa Non lo so Ok, ci siamo Eh Che le succede? Eh Infatti Sì, sì Ma infatti Hai totalmente ragione, zio Figurati A proposito Perché ti piace? Perché ti piace? Beh Ok Dimmi solo cosa devo fare, zio Ren, no Ma cerchiamo di non morire Perlomeno, no Ah, alla fine l'ha mangiato Ok, vedete questi piccoli di rocce? Sì Ah sì Ok Lo facciamo subitissimo Vediamo un po' Se troviamo qualcosa di strano Ma ben dico, non c'è nulla Di qua Cos'è un Un segnale Morse? What the fuck? Cos'è? Sì Beh, direi no Ok Proviamo qua Infatti Subito Ok, di qua non c'è nulla Andiamo più a sinistra Vediamo se trovi Oh Eh Beh Clarissa e Nona Deve potrebbero vedere questo Certo? Cioè 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 Non c'è nulla O Cioè Cioè No 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 Non ci temo Grazie Infatti Grazie Ren Che ne so È un mostro Non le sono mai piaciuta Non le sono mai piaciuta In un certo senso Sì Infatti Sono già qui Vediamo un po' Oh Non succede praticamente nulla Spaventoso Cos'è quel verso? Orribile Jonas dove va? Io Che cosa? Che cosa? Che cos'è? Che senso? Quale delle tre è? Non lo so Potrebbe essere abbastanza pericoloso Ok Non è che mi fido Più di tanto Sì Sicuro Jonas Aspettami Ok L'abbiamo interrotto su Mentre parlava Ok Quindi direi che è abbastanza Inquietante la cosa Si Si sta facendo inquietante Perché c'è una radio Che accende luci Che fa Senza un motivo Logico Ok Sono le 22 Siamo appena entrati In una caverna Jonas Jonas Sembrerebbe essere magicamente sparito Riprenderemo ragazzi da qui La prossima volta Fatemi sapere che cosa ve ne pare Secondo me può avere spunti Molto interessanti Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione E updos a tutti ragazzi Ciao Vi ricordo ragazzi Che se volete Costanti aggiornamenti Sul canale Potete trovare Tutti i link Nei miei social In descrizione E anche il link Per farmi delle donazioni Ciao